Siete capire? Tutto 10 Faccio che andiamo a nevare un indagino Siste Quando già stanno a casa Sì, c'è E' un effetto E' un po' di rame Non voglio la prima di dire E' un po' di rame E' un po' di rame Non voglio la Stop here! Non voglio la Ficcio che andiamo Figyeld meg, mi iene kittà c'è a kiozben A di zene kiozbe nem hallam ilyenire Magari? C'è cosa? Nem akarok beírti a ciozbe Figyeld Vucca Figyeld Vucca l'acchitta! No si fattu! a dombi è l'acchitta ee dodto un sacco e lui c'è il ciò e c'è il ciò fafzzzz Azzetti o dorsetto ha fatto il dolore i fordattaci a Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.